Cipolle, razzi e candelotti, la guardia di finanza ha sequestrato diverse tonnellate di bocchi illegali a Palermo, Carini, Termini, Merese e Siracusa. Bilancio di fine d'anno del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla racconta cosa è stato fatto in città dal giorno del suo insediamento. Manca poco al Capodanno che animerà Piazza Castelnuovo, domani sera a partire dalle 20.30 dopo la mezzanotte sarà la volta di Eleodì. Inaugurato a Palermo il dittico dell'accoglienza, raffigurante Biagio Conte dipinto da Igor Scalisi Palminteri. Zampognari concerti e feste in piazza legati per celebrare il 2024 e il sindaco Forgione che sia davvero un anno nuovo. Ben trovati alla seconda edizione di Media News di sabato 30 dicembre. Come avete sentito dai titoli, Cipolle, razzi e candelotti, la guardia di finanza ha sequestrato diverse tonnellate di botti illegali a Palermo, Carini, Termini, Merese e Siracusa. Vediamo. I militari del secondo nucleo operativo metropolitano Palermo nel corso di distinti interventi hanno sequestrato presso due attività commerciali circa 1.150 articoli pirotecnici costuditi in locali sprovvisti delle necessarie certificazioni di prevenzione antincendio negli stessi spazi di vendito di stoccaggio di articoli altamente infiammabili. Sempre a Palermo ulteriori 240 ordini artigianali ad alto potenziale provenienti da Napoli sono stati rinvenuti all'interno di un deposito di spedizioni in Viale Michelangelo. Sempre nel capoluogo sono state sequestrate tre batterie da 100 razzi e 60 candelotti pirici del peso complessivo di 15 chili a un soggetto palermitano che li deteneva per la libera vendita in un esercizio commerciale del centro cittadino aperto al pubblico in totale assenza delle autorizzazioni di pubblica sicurezza. E ancora i finanziari in servizio presso il porto hanno individuato e fermato un'auto appena sbarcata dal traghetto proveniente da Napoli al cui interno erano nascosti circa 152 chili di materiale pirotecnico prontamente sequestrati. L'attività si è sviluppata anche nei comuni del versante orientale della provincia dove all'interno di una cartoleria di termini merese i militari hanno sequestrato oltre 2.500 artifici pirotecnici per un peso complessivo di oltre 106 chili legalmente detenuti. Ulteriori controlli eseguiti da militari della compagna di bagheria, in particolare sui mezzi di trasporto e presso i depositi dei corrieri postali hanno consentito di individuare sei spedizioni di colli risultati privi di indicazioni sull'origine con dentro artifici pirotecnici per un peso complessivo di circa 436 chili. Anche la Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato sei tonnellate di fuochi d'artificio tra cui spiccavano bengala, fontane e batterie contenenti circa 670 kg di polvere pirica attiva detenuti illegalmente presso dei locali siti nel centro di Avola e sprovvisti dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge pronti per essere immessi in commercio per un potenziale introito di circa 500.000 euro. Uno scontro frontale fra due auto è avvenuto ieri notte sulla strada statale 114 Viale Ionio di Acireale nell'impatto ha perso la vita una ragazza di 18 anni di Taormina ci sarebbero anche cinque feriti sul posto sono intervenuti i carabinieri, le ambulanze del 118 VG del fuoco del distaccamento di Acireale. I passeggeri dei mezzi coinvolti sono stati estratti dalle laniere non è ancora chiara la dinamica dell'impatto avvenuto intorno all'una e mezza. bilancio di fine anno del sindaco di Palermo Roberto Lagalla racconta cos'è stato fatto in città dal giorno del suo insediamento. Per fare un resoconto di questo 2023 qual è stato il piano aziendale dell'amministrazione comunale? Ho cercato di spiegare la situazione del comune ai cittadini portando un esempio che è quello del nido ed è quello del cibo che un papà e una mamma cercano di approntare per i propri uccellini e devo dire che la parabola serve nel senso che quello che abbiamo fatto in un anno e tre mesi al comune è stato rifare il nido e assicurare il cibo, che in un anno e due mesi abbiamo assicurato la riorganizzazione degli uffici, l'assunzione di oltre 30 dirigenti, la stabilizzazione e l'allungamento dell'orario di servizio di tutto il personale comunale e la riorganizzazione della filiera organizzativa del comune. Abbiamo restituito normalità e correntezza finanziaria al comune approvando in un anno oltre otto bilanci arretrati tra consultivi, preventivi, consolidati e soprattutto abbiamo chiuso il patto con lo Stato e il piano di riequilibrio. Il PNRR e i fondi extracomunali sono quelli che ci consentono di fare gli investimenti. I progetti riguardano, come ho detto, l'illuminazione, la riqualificazione stradale, la potatura e per questi obiettivi ci sono i soldi che sono in gran parte fondi extracomunali ma che potrebbero essere molti di più per migliorare i servizi dove i cittadini svolgessero e facessero tutti il proprio dovere di contribuenti. È d'obbligo fare un passaggio e attenzionare al sindaco le situazioni che lui conosce delle periferie. Che cosa si è fatto e che cosa si pensa di fare? Noi nel nostro programma di mandato abbiamo coniato un termine, lo ha fatto il professore carta da urbanista e da assessore alla rigenerazione urbana, cioè quello che Palermo possa diventare una città polifenica, cioè senza periferie ma con più aree urbane caratterizzate da una omogenea qualità dei servizi e da pari opportunità. Restiamo in tema, conferenza stampa di fine anno al comune di Bageria, il sindaco Filippo Tripoli ha tracciato il bilancio di quanto è stato fatto, vediamo. Sì, questa è la quinta conferenza stampa di fine anno, abbiamo fatto un riepilogo delle attività svolti in questo anno, ma anche delle ultime attività e progetti messi in cantiere già con i lavori operativi. Stiamo parlando del Pippe Monaco, per esempio, dell'ampliamento del cimitero dove realizzeremo ulteriori mille loculi, il Pippe Monaco dove finalmente entro giugno 2024 ci saranno le aree di sviluppo industriale o chiamata area artigianale o piano di insegnamento improduttivo funzionanti e quindi adesso procederemo con l'avviso per le imprese, così come la gara accordo quadro per la manutenzione strade per circa 700 mila euro e proprio in questi minuti gli uffici hanno pubblicato la gara per la realizzazione del rifugio sanitario, quindi realizzeremo finalmente il primo stralcio del canile in qualche modo della città che aspetta da decenni e che non c'è mai stato e il primo stralcio appunto comporterà la realizzazione del rifugio sanitario e di due box esterni per gli animali, così come è stata pubblicata la gara per realizzare l'impianto di ZTL ad Aspra, ci saranno sei postazioni e verrà realizzata così la zona traffico limitato per il periodo estivo, ovviamente è una gara per la realizzazione di un posteggio al centro della città. Abbiamo ricevuto incomodato d'uso gratuito per tre anni più tre, quindi sei anni un'area dove realizzeremo un posteggio temporaneo per circa 100 posti auto, questo servirà come dire a dare una boccata di ossigeno all'asseviario di Corso Butera, Corso Umberto e anche Via Libertà. Vanno spediti i lavori per esempio per la riqualificazione dello stadio di Bageria, lavori che non si facevano da 40 anni, finalmente ci sarà uno stadio che può essere fruito sia dai tifosi che oggi le squadre giocano a forte chiuse ma anche dalle famiglie, ovviamente lo stadio avrà una funzione non soltanto sportiva ma anche sociale perché l'idea è quella di realizzare concerti ed eventi e poi c'è stata la riqualificazione di alcune aree, io penso che noi in questi cinque anni chiaramente c'è tanto da fare e noi abbiamo tantissimi limiti ovviamente e ancora c'è molto da fare, però penso che due o tre cose più significative che possono essere il miglioramento della raccolta dei rifiuti, per esempio abbiamo preso una città che era al 32%, oggi è sopra il 65%, che il servizio idrico funziona in modo finalmente corretto, quando siamo arrivati c'erano delle zone che erano totalmente senza acqua, così come ecco le zone artigianali, l'attenzione ad aspra, la riqualificazione dello stadio, il cimitero, oggi andare al cimitero è sicuramente, entri in un cimitero dove c'è secondo me più dignità, oltre alla pulizia e finalmente con la realizzazione di questi mille loculi, noi in questi quattro anni e mezzo, cinque anni, ne abbiamo realizzato circa mille e cinque, definitivamente finirà l'emergenza dei loculi, che oggi è stata abbondantemente diciamo quasi azzerata, però con la realizzazione dei mille loculi di fatto non ci sarà più la preoccupazione di avere la Camera Mortuaria con i nostri cari defunti. Nel corso della conferenza stampa Tripoli ha anche annunciato che alle prossime amministrative si ricandiderà con una coalizione civica. Noi ci ripresenteremo, me l'ho chiesto la coalizione, con la coalizione civica così come è stato nel 2019. Ci presentiamo con una coalizione coerente rispetto agli impegni assunti con gli elettori nel 2019, con una coalizione che ovviamente ha avuto nuovi ingressi così come ha avuto delle uscite, ma l'impianto della coalizione rimane coerente che è la coalizione civica. Noi sappiamo che abbiamo tanti limiti, ma sappiamo anche che la coalizione civica continua ad essere un'opportunità per la città, perché mentre gli altri devono decidere chi possa essere il possibile candidato, quale possa essere l'alleanza e probabilmente queste scelte non verranno fatte qui, ma verranno fatte a Palermo, noi non abbiamo bisogno, col rispetto che ovviamente abbiamo, ma non abbiamo bisogno di passare dalle segreterie di partito, perché Bagheria viene messo al centro e non uno dei tanti paesi su cui bisogna decidere cosa fare. Bagheria ha bisogno di stare al centro e di avere una giunta politica, ma trasversale, che sia nelle condizioni di poter ottenere il più possibile all'interno delle regole e delle legittimità, risultati per Bagheria. E se dopo 20 anni, dopo 12 anni, stanno cominciando i lavori all'area artigianale, si sta realizzando la casa della salute, realizzeremo la casa di comunità su un bene nostro che diamo all'ASP, i lavori allo stadio, l'ampliamento del cimitero, penso che ciò sia stato possibile anche perché questa giunta e questa amministrazione, essendo civica, non ha avuto la necessità per forza e sempre di discutere su un piano esclusivamente politico, ma di realizzare servizi per la collettività e quindi mettere insieme gli uomini e le donne di buona volontà per raggiungere degli obiettivi amministrativi. E cambiamo argomento, i rifiuti invadono la città di Palermo a causa del mancato rispetto delle regole sul conferimento nei giorni di Natale. Il servizio di raccolta dei rifiuti RAP riprenderà la sua attività dopo le festività. Vi segnaliamo che, come avete visto da ieri, stiamo cercando di recuperare le vacanze natalizie. Purtroppo, per l'ennesima volta, noi palermitani non riusciamo mai a rispettare le regole, quindi i giorni festivi che dovevano essere dei giorni in cui non si doveva assolutamente buttare niente né differenziato né indifferenziato, ovviamente tutti i palermitani hanno regolarmente buttato l'imbondizia nei cassonetti e quindi ci ha creato delle difficoltà, anche perché in quei periodi abbiamo fatto dei progetti volontari che chiaramente hanno portato solo in parte e il personale a lavorare e quindi ci stiamo creando un po' di difficoltà, che comunque da oggi stiamo cercando di recuperare e quindi già da ieri gli operai sono a pieno regime per recuperare quei giorni di vacanza in attesa del prossimo weekend che è nelle stesse condizioni. Invitiamo a tutti i palermitani, per favore, rispettiamo un po' le regole, non buttiamo, non gettiamo immondizia nei giorni festivi perché non è previsto da nessun contratto. Manca poco al Capodanno che animerà Piazza Castelnuovo domani sera. A partire dalle 20.30 la serata inizierà con cantanti palermitani e il cabaret firmato da Sergio Vespertino e Antonio Pandolfo. Dopo la mezzanotte sarà la volta di Elodie, artista multiplatino e interprete di alcuni dei brani di maggior successo degli ultimi anni. Quest'anno torna il grande concertone di Capodanno, che non è soltanto chiaramente Elodie, ma Elodie è l'artista di punta, ma ovviamente prima di Elodie sarà preceduta da tantissimi artisti, ci tengo a dirlo, palermitani, che si alterneranno sul palco con la presenza quest'anno dell'Orchestra del Teatro Massimo, guidata dal maestro De Luca e accompagnata da una band del maestro Zarcone, che accompagnerà appunto tanti artisti palermitani che si alterneranno da Pamela Barone, a Dario Biancardi, a Giunale Di Liberto, a Samaritano. Ci sarà quest'anno la novità di questo giovane violinista che ha vinto Tusic e Vales, appunto sarà questa diciamo la chicca del Capodanno, e questo ragazzo talentosissimo che appunto ha vinto questo Tusic e Vales ha avuto grandissimo successo e quindi sarà presente anche a Capodanno. Ci saranno tre giovanissimi artisti, Marlo, Peppelana e Predea, che si alternano all'inizio di serata, alle 20.30, alle 21 e poi dalla mezzanotte, mezza, mezzanotte e venti ci sarà appunto Elodie. Posso dire che è un Capodanno assolutamente in sicurezza, abbiamo attivato tutto quello che era necessario per garantire appunto la tranquillità a chi verrà a Capodanno, non associerei ovviamente perché non c'è neanche ragione di associare gli eventi che sono successi ultimamente a Palermo rispetto al Capodanno, che sono due cose completamente distinte. Il Capodanno è un momento di gioioso, è un momento di condivisione e di leggerezza, dove il Palermitano ha sempre dimostrato, anche lo scorso anno è stato fatto un Capodanno assolutamente in sicurezza, con tranquillità, senza nessun problema, quindi quest'anno sono convinto che sarà lo stesso, ovviamente essendoci un artista che ha un richiamo fortissimo abbiamo previsto, e la Questura della Prefettura ci ha chiesto chiaramente una presenza di security maggiore, è quello che abbiamo fatto, quindi sotto questo punto di vista ci siamo abbastanza tranquilli. Inaugurato dall'Arcivescovo Corrado Lorefice, il dittico dell'accoglienza, raffigurante Biagio Conte, dipinto da Igor Scalisi Palminteri, alla cittadella del povero della speranza di via De Collati a Palermo, vediamo. È stato inaugurato e benedetto dall'Arcivescovo Corrado Lorefice il dittico dell'accoglienza, raffigurante Biagio Conte in due momenti molto precisi, l'inizio e la fine della sua missione. Il tema centrale è senza dubbio l'accoglienza, ha precisato Don Pino Vitrano, responsabile della missione di speranza e carità. Le immagini che abbiamo scelto infatti richiamano il dinamismo che ha scatenato in Biagio la voglia di accogliere a Palermo i fratelli che arrivano da tutte le parti del mondo. Lui, senza volerlo, oggi è la figura rappresentativa di Panormus, la città tutto porto, pronta ad accogliere. Con la prima immagine vogliamo dimostrare che se siamo aperti ad una fede profonda a tutte le religioni ed etnie, Palermo può diventare veramente una città che può insegnare tanto a quest'umanità. Nella seconda immagine è raffigurato il momento in cui Biagio ha accolto il primo fratello che è arrivata alla stazione, si chiama Andrea. Questa è l'espressione più grande dell'amore e dell'accoglienza che fratello Biagio aveva verso tutti. «Sono onorato di aver fatto questo dittico perché sono convinto che Biagio rappresenti tutta Palermo, non solo quella che accoglie ma anche quella non accolta, degli ultimi e degli emarginati. Questa è una parte di Palermo che non possiamo dimenticare», commenta così l'artista Igor Scalisi Palminteri, autore dei murales. Zampognari, concerti e feste in piazza, Legadi per celebrare il 2024 il sindaco Forgione che sia davvero un anno nuovo. Con il suono delle zampogne si è aperto ieri alle Egadi il fine settimana che culminerà con i festeggiamenti per il nuovo anno. L'ambinistazione comunale, in collaborazione con la Proloco Isole Egadi, l'area marina protetta e le associazioni del territorio, ha organizzato una lunga serie di eventi che accompagneranno residenti e visitatori fino alla fine delle feste. Ieri mattina gli zampognari hanno girato per le vie di Favignano e Levanzo creando un'atmosfera magica e coinvolgente. Nel pomeriggio all'ex stabilimento Florio si è svolto il concerto di Capodanno. Il corpo bandistico maestro Giuseppe Beninati ha proposto un repertorio di brani della tradizione musicale che è stato molto apprezzato dal folto pubblico presente in sala. Il sindaco Francesco Forgione, intervenendo al termine dello spettacolo, ha augurato un buon 2024 a tutta la comunità egadina. Che sia un anno di pace, ha detto, che ci liberi da ogni forma di violenza. Non abituiamoci all'orrore della guerra, ai bambini che muoiono sotto le bombe, di chiunque siano le bombe e chiunque siano coloro che le lanciano. Un ponsiero va alle persone più deboli, a chi soffre, a chi ha bisogno anche nelle nostre isole, agli ospiti del nostro penitenziario. Auguri a tutti per un buon 2024 che sia davvero un anno nuovo. Grande festa ancora ieri sera a Marettimo, con la Sagra della Sfincia, un momento di gioia e di condivisione nello spirito del Natale. Il lungo fine settimana si concluderà domani con i festeggiamenti per il nuovo anno. A Favignan, a partire dalle 23, grande festa in Piazza Europa, con la musica di Cool Funk, Mirco Ditta e la voce di Vincenzo Campo. A Marettimo e Levanzo, appuntamento all'oratorio parrocchiale e al centro sociale. Ed anche a Cerda è tutto pronto per la grande festa in Piazza Lamantia per la notte di Capodanno, con cabaret, musica e DJ set. Ce ne parla il sindaco Salvatore Geraci in questa intervista. Manca pochissimo al Capodanno, qual è il programma? Abbiamo un programma intenso, un bel programma con il cru sarà il cabaret della signora Santina, che in questo momento va per la maggiore, sta riempiendo tutti i video, tutti i giornali e poi abbiamo l'illusion, due bravi presentatori, Cristiano Di Stefano e Sonia Amenza e poi Peppa Albert con il DJ set che concluderà la serata, intermediata a mezzanotte avremo i giochi pirotecnici, quindi sarà dalle 22.30 fino alle 3, sarà una serata ricca, emozionante, divertente, piena di balli, piena di musica, diciamo alla grande. Cerda torna protagonista col 31 dicembre 2023-2024, anzi per dirla tutta, la prima in assoluta di Cerda in piazza. La piazza è la piazza Lamantia, la piazza principale dove c'è il carciofone, il famoso carciofone e quindi è una piazza che solitamente durante la saga del carciofo viene visitata da centinaia di migliaia di persone, quindi il luogo è la piazza principale, il carciofone con le scalinate che ricordano Trinità dei Monti, quindi ci sono tutti gli ingredienti per una bellissima serata e poi c'è l'accoglienza di noi cerdesi. Quanto è impegnativo il sindaco organizzare un evento così grande anche in termini di sicurezza, se ne parla tanto di sicurezza nelle città soprattutto durante queste serate di festa? La sicurezza è condizione sineconome affinché la questura ti rilasci l'autorizzazione, quindi sia la sicurezza sia il piano sanitario, noi abbiamo così pianificato il tutto già da mattinovembre, abbiamo presentato la domanda alla questura, quindi tutto passa al vaglio della questura, c'è stata la commissione di pubblici spettacoli che io presedo che si è riunita, quindi voglio dire già abbiamo avuto una manifestazione che è la magia del Natale all'aperto e quindi è andata bene, poi le altre manifestazioni le abbiamo avute in chiesa, gospel, concerti di musica classica con la banda Bellini, poi c'è stata animazione in piazza con l'albero azzurro che è un'associazione di Cerda, insomma è stato un Natale ricco dall'8 di dicembre fino al 6 gennaio, poi continuerà con altri eventi di Capodanno del 4, del 6, diciamo un calendario ricco che ha coinvolto tutte le fasce d'età dai più piccoli ai più grandi. L'obiettivo è stato raggiunto, il 31 è una prima assoluta e noi ci aspettiamo che vengano molte persone dai paesi vicinori e perché no qualcuno da Palermo. Mauro Visconti, neodirettore del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, affronta obiettivi e propositi per l'istituzione culturale e musicale della città. Dal primo novembre ricopro l'incarico di direttore di questo importantissimo e prestigioso istituto musicale, un istituto florido che vanta più di mille iscritti, che offre alla cittadinanza non solo un'ampia offerta formativa. Negli ultimi decenni i conservatori hanno avuto la possibilità di aprirsi ai nuovi linguaggi, quindi al jazz, ma anche alla musica antica con un approccio molto attento alla filologia. Quindi Palermo rappresenta un polo di eccellenza in Sicilia, nel Meridione e direi anche in ambito nazionale. Un aspetto che mi sta particolarmente a cuore è la vicinanza nei confronti degli studenti, delle famiglie, ma anche l'internazionalizzazione. Questi sono i due poli di riferimento che orientano il mio lavoro quotidiano e poi l'attività ordinaria. Presto avvieremo le masterclass per l'anno 2024, inaugureremo la stagione concertistica, i primi di marzo al Teatro Massimo con un concerto dell'Orchestra Sinfonica del Conservatone, una realtà importantissima, formata da docenti e studenti e in quell'occasione, proprio perché l'orientamento è quello di puntare sui giovani, si esibiranno due studenti, due eccellenze del nostro istituto. A proposito di giovani, l'amore per la musica è sempre forte nei giovani? L'amore è forte, lo vediamo perché nonostante le criticità, la denatalità, anche la crisi del settore culturale e musicale, riusciamo a tenere in termini di iscrizioni. Certo, preoccupa un po' la crisi del mondo del lavoro, ecco perché bisognerà lavorare per creare dei ponti con il mondo del lavoro, quindi penso alle realtà lirico-sinfoniche più rappresentative, penso alla scuola, bisognerebbe trovare delle soluzioni per supportare i nostri studenti dopo il conseguimento del titolo finale. E' lo stato economico del conservatorio? E' uno stato, diciamo, buono di un ente pubblico che chiaramente deve spendere quello che è in cassa, quindi la mia idea è quella del buon padre di famiglia che deve cercare di spendere con curatezza, guardando tutti e cercando di mantenere quell'equilibrio necessario, indispensabile per tenere i conti in ordine. Chiaramente per questi aspetti subentra il presidente, il consiglio di amministrazione, quindi il direttore non è solo. Al centro sportivo Luisa Ribolla di Palermo, giornata finale del 26esimo Memorial, Vincenzo Fazzino, figura storica del movimento calcistico regionale siciliano. Vedere tutti questi piccoli dai 7 ai 17 anni, giocare questo torneo è un'emozione bellissima. In realtà ero veramente giovanissimo quando partì questo torneo, oggi è bellissimo rivedere un ulteriore memorial, l'assemblea regionale ha voluto contribuire in maniera concreta, fattiva, al delà delle belle parole, premiando questi ragazzi, per cui una giornata di festa, vedere tutti questi premi per tutti questi ragazzi, tutti questi sorrisi. Affichiamo davvero che il coinvolgimento delle istituzioni sia sempre, sia ogni giorno, sia tutti i giorni dell'anno, perché questi ragazzi possano continuare a coltivare i loro sogni, non soltanto oggi, ma in tutte le circostanze in cui si crea aggregazione, in una delle tante periferie della città, che però lasciatemi dire, in questo caso ha veramente una storia di tradizione, di impegno, una storia culturale nel mondo del calcio. È sempre una grande emozione vedere questi bambini giocare al calcio e soprattutto per allenarli, giusto? È un piacere allenare questi bambini in questa fascia d'età, infatti anni fa io allenavo bambini di 12-13 anni, poi circa 20 anni fa sono stato retrocesso ad allenare i piccolini e l'avevo preso un po' male, ma ho scoperto un mondo tutto nuovo, danno gioia, felicità, ti riempiono di orgoglio, sono veramente felice di fare questo lavoro con loro. I bambini sono la cosa più bella, io sono entrato qua poco fa, vedere tanto coinvolgimento di genitori, personaggi importanti, persone che hanno tralasciato il compito, qui abbiamo per esempio un esempio, e quindi questo fa sì che l'interesse verso i giovani c'è, c'è sempre stato e dovrà continuare a esserci. Comunque sono felice di vedere questi ragazzini felici e quindi per me è una serata magica. È un momento bellissimo, quindi chissà qualcuno di questi giocatori potrà diventare davvero un grande calciatore. È un momento bellissimo perché copre le vacanze estive che solitamente ai campionati si fermano. Lei ha detto chissà se qualcuno potrà diventare un calciatore, certo ce l'auguriamo, ma il compito della federazione calcio è anche un altro, è anche quello di istruire questi ragazzi attraverso un percorso sportivo, di diventare dei tifosi esemplari, di diventare dei padri di famiglia esemplari, perché attraverso il calcio e attraverso lo sport ovviamente, ci mancherebbe altro, si imparano le regole e per vivere nella società civile le regole sono importantissime. E' tutto, grazie per averci seguito, vi ricordo come sempre l'appuntamento con gli altri notiziari di Media News. Grazie a tutti.